Quali sono i punti chiave del suo programma? Qual è la prima cosa che farebbe se fosse eletto sindaco? Allora, quando non sei contento di un'amministrazione, quando non sei contento di come sono state gestite le cose, quando per propria convinzione e per proprio giudizio si sono osservate tante cose sbagliate e quindi si trova un ambiente sporco, un ambiente disfunzionale. Cosa si fa? Si aprono le porte del comune e il sindaco Terra con la sua squadra andrà e ripulirà tutto, sgombrerà tutto, eliminerà tutta la vecchia macchina, quella mala gestio, verrà eliminata tutta. Si puliscono i locali, si puliscono gli ambienti, i settori e che cosa si fa? Si guardano le cose che non vanno e si gettano. Qualcosa di buono, che sicuramente sarà stato fatto, si conserva e si prosegue. Questo andremo a fare. Votare Francesco Terra e mettere una croce sul simbolo ancora Italia perché è l'unico partito che sta scommettendo su Ortona, ma non a chiacchiere. Noi non vi porteremo Diego Fusaro, Francesco Toscano, i big del partito o anche i senatori che già hanno aderito a Ancora Italia. Non abbiamo bisogno di fare queste parate che non servono. Il segretario regionale ha già impiantato la segreteria regionale a Ortona, sta già spendendo soldi a Ortona, pagando le tasse a Ortona, sostenendo i commercianti di Ortona, abita a Ortona da cinque anni. Quindi scegliete ancora Italia perché è il partito che sta scommettendo su Ortona, scegliete Francesco Terra perché ha messo tra i suoi candidati consiglieri tutte persone buone, nel senso che pensano ovviamente ai loro interessi, al loro bene, ma anche a quello dei cittadini e sono persone colte nel senso che sono tutti professionisti come me che ogni giorno che cosa fanno? Non contano le lauree o i master che abbiamo attaccati sulle pareti. Colto vuol dire che qualsiasi lavoro fai ogni giorno ti migliori. Io ho fatto una squadra così.